Il 6 dicembre entrerà in vigore il Super Green Pass, una misura volta a preservare il buon andamento del quadro nazionale riguardo l'emergenza pandemica, provvedimento che ha trovato d'accordo la maggioranza dei consiglieri regionali. Voto favorevole dell'Aula alla seconda variazione di bilancio. La manovra riguarda una serie di interventi e rimodulazione di spesa che interesseranno la Toscana fino al 2023, tra questi 53 milioni destinate alla sanità. Le opposizioni però attaccano e chiedono un confronto con Gianni. Mancano pochi giorni e poi il Super Green Pass detterà legge. Dal 6 dicembre le misure per contenere l'emergenza pandemica saranno rafforzate e per chi non ha il vaccino sarà più complicato condurre una normale quotidianità. Le novità in arrivo da Roma sono filtrate anche all'interno del Palazzo del Pegaso e i consiglieri hanno preso posizione. La maggior parte si è detta favorevole cogliendo l'occasione anche per fare un appello sulle vaccinazioni, come hanno sottolineato i vari esponenti politici, da Enrico Sostendi del PT a Stefano Scaramelli di Italia Viva, fino ai rene galletti del Movimento 5 Stelle. In Italia la situazione è migliore che in altri paesi, perciò è necessario non abbassare la guardia, anche con le terze dosi. I dati di confronto anche con gli altri paesi europei ci dimostrano come i paesi che hanno una percentuale anche poco più bassa di vaccinazione rispetto a quella italiana sono già in una situazione di assoluta difficoltà. Quindi questo vuol dire che recuperare anche pochi punti e quindi poche migliaia di persone vaccinate può voler dire evitare nuove chiusure e acuitizzarsi della situazione degli ospedali. Quindi intanto le terze dosi velocemente, oggi la Toscana ha già riaperto alla terza dose dopo cinque mesi e questo è il primo elemento, dopodiché tutte le misure che portano le persone a decidersi di vaccinarsi sono assolutamente necessarie perché sono quelle che anche se spostano qualche percentuale di vaccinati possono evitare nuove chiusure e difficoltà negli ospedali oltre che le morti. Quindi siamo assolutamente d'accordo. Serve una stretta ulteriore, non si può più essere tolleranti, la tolleranza nei confronti di coloro che non sono tolleranti non è più accettabile e quindi noi dobbiamo andare su una misura molto rigida rispetto a un green pass che viene concesso solamente vaccinati. Ho detto io, ho fatto una proposta per iniziare ad andare in quella direzione a coloro che sono in procinto di farlo, magari una prenotazione per un green pass e un tampone ancora può tenere in piedi un green pass ma sono questioni di giorni. Oggi il portale è aperto, si può fare vaccinazioni per le terze dosi, si possono fare ovviamente per le prime e per le seconde, non ci sono più scuse, bisogna andare sui vaccini altrimenti non c'è alternativa all'obbligatorietà. Ancora possiamo arrivare su questa strada ma insomma l'inverno incombe e credo che i dati ci dimostrano che il pericolo di un'ulteriore ondata sia veramente evidente. Quindi su questo non possiamo più tollerare una misura leggera e dobbiamo agire con grande fermezza. È un provvedimento al quale nessun governo vorrebbe mai arrivare e nemmeno noi lo vogliamo. Voglio ricordare un aspetto, che l'Italia è oggi uno dei paesi nelle migliori condizioni per quanto riguarda la quarta ondata che ha colpito l'Europa e non solo, mentre paesi come la Germania e la Danimarca stanno affrontando un'emergenza veramente grave con terapie intensive piene e soprattutto con un'ondata di morti di nuovo senza precedenti. Quindi quello che secondo me deve essere importante è l'appello che continuo a fare a coloro che hanno ancora dei dubbi sulla vaccinazione, di andare a vaccinarsi, di avere fiducia nella scienza medica che ha portato veramente l'umanità a momenti di benessere veramente notevoli. Quindi l'appello è questo e cerchiamo di essere innanzitutto responsabili per noi stessi, per i nostri cari. Nelle fila del centro-destra, alleghista Diego Ulmi, che non ha espresso contrarietà, ricordando comunque l'importanza di distanziamento e igiene personale, ha fatto da contraltare Francesco Torselli. Il capogruppo di Fratelli d'Italia ha criticato il provvedimento che dimostra il fallimento del governo. Perciò sarebbe meglio evitare prese in giro e introdurre la vaccinazione obbligatoria. Il Green Pass di per sé è un mezzo, cioè non è un qualche cosa che è fine a se stesso. Il Green Pass è servito, servirà, per poter permettere alla gente di facilitarne la vaccinazione. Io sono un medico, per cui credo che i vaccini li abbiamo studiati in medicina da sempre e sono un caposaldo della sanità, della medicina stessa. Hanno eradicato delle malattie assolutamente che hanno omietuto nei secoli centinaia, migliaia di morti. Per cui benvenga il Green Pass se a un certo momento questo Green Pass può essere il veicolo per una vaccinazione che da sola non è sufficiente, ma che comunque può in qualche modo permettere l'eradicazione o quantomeno l'abbassamento del tasso di contagiosità. Ovviamente va accompagnata tutte quelle attenzioni che noi dobbiamo avere nel distanziamento, nel lavarsi le mani, nell'usare i gel disinfettanti, perché quando si parla che il vaccino ha una riduzione della contagiosità del 90% oppure l'85%, si parte sempre da un presupposto a parità di sanificazione della nostra persona. Penso che se ad un anno di distanza siamo ancora a parlare di ipotesi di lockdown, di regioni che possono cambiare colore, di limitazioni ai cenoni di Capodanno, di luminarie da accendere una settimana prima per vedere se qualcuno pensa che Natale quest'anno venga il 14 e non il 25, evidentemente qualcosa è andato storto e questo strumento, questo Green Pass introdotto perché sarebbe dovuto essere la panacea a tutti i mali, evidentemente non ha funzionato come doveva funzionare. Quindi oggi arrivare a parlare di una sua estensione mi sembra un controsenso. Il Green Pass ce l'hanno venduto come uno strumento che sarebbe servito al contenimento della pandemia, in realtà era soltanto un incentivo, un obbligo vaccinale nascosto, un incentivo a vaccinarsi. Abbiamo raggiunto un numero di cittadini ormai vaccinati in Toscana addirittura l'85%, a livello nazionale un po' sotto l'80%. Chi oggi non si è vaccinato è uno zoccolo duro di cittadini che ormai hanno deciso, scelto, di non vaccinarsi. E se tu, Governo nazionale, vuoi arrivare a questo zoccolo duro di ultimi resistenti, è inutile che tu introduca il Super Green Pass. Abbi un gesto di coraggio, assumiti le tue responsabilità, caro Governo, e introduci l'obbligo vaccinale. Obbligali alla vaccinazione, altrimenti loro non si vaccinano. Numeri destinati a segnare la Toscana fino al 2023, impressi nella seconda variazione di bilancio che ha coinvolto il Consiglio regionale in un lungo dibattito. A illustrarla Giacomo Bulliani, presidente della Commissione Affari Istituzionali. Sul territorio verranno riversati decine di milioni di euro, secondo le seguenti modalità. 49 milioni di nuovi interventi in spesa corrente. Incremento delle risorse sul fondo di riserva spese impreviste per 35 milioni. Interventi aggiuntivi per 54 milioni sulla spesa di investimento, di cui 53 destinati alla sanità. Rimodulazione di spese già programmate per circa 124 milioni, con spostamento degli impegni al 2022. Si interviene sulla spesa corrente, prevedendo per la cultura il reintegro di risorse per 8 milioni 800 mila euro. Per quanto riguarda le rimodulazioni, ha sottolineato il Consigliere, le voci più significative sono quelle che riguardano gli immobili, ex ospedale Meyer e ospedale oftalmico, le risorse legate alla difesa del suolo e per l'abbattimento delle emissioni climaalteranti in ambito urbano. Altra voce quella della viabilità con la rimodulazione delle risorse per la manutenzione dei ponti, poi di alcune strade e ferrovie in provincia di Arezzo, della strada regionale 436 e della strada provinciale San Rocco. Azioni che nel complesso hanno ricevuto il plauso di Stefano Scaramelli di Italia Viva, che ha sottolineato l'importanza di non aumentare l'imposizione fiscale per i cittadini. Una manovra che è stata adottata all'insegna della prudenza, ma nella volontà di dare sostegno ad alcuni settori strategici della nostra regione. Innanzitutto una misura che si caratterizza per una contrazione molto forte dell'autorizzazione all'indebitamento. Questo perché ci sono una serie di finanziamenti previsti per il 2021 che sono stati dislocati nelle annualità successive. C'è da dire però che una grossa fetta di questa misura in realtà è caratterizzata da rimodulazioni. Ci sono molti interventi che avrebbero dovuto essere realizzati nel 2021 e che vengono spostati con i relativi finanziamenti nelle annualità 2022-2023. Questo soprattutto in relazione al ritardo nei cronoprogrammi di tutta una serie di interventi che avrebbero dovuto essere realizzati da altri enti diversi dalla regione toscana. Ci sono però delle misure effettivamente innovative da un punto di vista finanziario e in particolar modo ricordiamo 53 milioni di euro che vengono destinati alle aziende sanitarie e sono finalizzati al rilancio delle politiche di investimento delle aziende sanitarie e quasi 9 milioni di euro che vengono destinati al settore dello spettacolo, un settore che dalla pandemia è stato pesantemente alterato e che ha bisogno di un sostegno effettivo da parte delle istituzioni pubbliche. Il nostro è stato un voto positivo, una variazione di bilancio che ha confermato quello che stiamo dicendo negli ultimi mesi, no all'aumento delle tasse, serviva a fare un'allocazione corretta delle risorse che attualmente sono a disposizione della regione, quindi aver liberato oltre 70 milioni di euro consente di mettere in sicurezza i fondi della sanità, continuare a dare servizi, erogare e dare risposte rispetto alla battaglia del Covid, non gravare sui cittadini. Era una battaglia politica che noi abbiamo portato avanti, abbiamo vinto questa sfida che serviva per non aumentare nuove tasse, ma soprattutto per trovare una risposta corretta alle esigenze del sistema sanitario e anche una collocazione corretta, essendo ormai a novembre, delle risorse a nostra disposizione. Quindi siamo stati convinti che questa sia stata una battaglia giusta, nel frattempo abbiamo fatto prendere un impegno al Consiglio regionale rispetto agli stanziamenti sulle scuole rispetto agli interventi necessari, urgenti, a causa dell'incremento dei prezzi che molte realtà hanno quando vanno a realizzare nuovi interventi edilizi. Abbiamo presentato un emendamento in merito, abbiamo accettato di ricondividerlo da qui la sessione di bilancio per dare una risposta organica a tutta la Toscana. Tra i banchi dell'opposizione i toni sono stati meno enfatici. Marco Casucci della Lega ha espresso la propria netta contrarietà, evidenziando l'assenza del presidente regionale Eugenio Gianni. Il consigliere ha attaccato la Giunta sulla mancata programmazione, chiedendo poi chiarimenti sulle risorse destinate alla sanità. Bocciatura completa anche da parte di Francesco Torzelli di Fratelli d'Italia, che ha posto l'attenzione sui tagli e sulle mancate risposte dell'intero impianto di manovra. Giudizio in chiaro scuro, infine, per Andrea Negalletti del Movimento 5 Stelle, che ha parlato di scelte condivisibili, ma anche di un progetto non di ampio respiro, legato a logiche individuali e privo della dovuta concertazione con gli enti locali. La Lega vota convintamente contro questa variazione di bilancio, da un lato perché riguarda tutta una serie di rimodulazioni per il 2022, di mancata realizzazione di opere infrastrutturali e la nostra Toscana paga un gap infrastrutturale notevole. Occorre aprire una riflessione congiunta con maggioranza e opposizione sul tema delle infrastrutture, perché i soldi ci sono, a volte manca i tempi di realizzazione, la chiarezza appunto sulla programmazione, questo ci sta decisamente colpendo come Regione Toscana dal punto di vista competitivo. Dall'altro, perché non ci convince tutta una serie di operazioni che sono state fatte recentemente dalla Regione Toscana, questa discussione inevitabilmente si è collegata con quella sul buco di bilancio della sanità e per dire una delle disposizioni si è cercato di caricare sul bilancio del Consiglio della Giunta regionale il debito in termini di ammortamento di 53 milioni del sistema sanitario, quindi uno sgravio. Ma la situazione non è assolutamente chiara. Noi chiediamo che Gianni sia presente, invece è continuamente assente sia in Commissione e anche oggi in Aula, fino adesso non l'ho sinceramente visto. È una variazione di bilancio molto particolare, perché è una variazione di bilancio che sposta 76 milioni e mezzo di investimenti previsti nel 2021 al 2022 per recuperarne circa 36 che vengono destinati alla sanità, altri che vengono destinati alla cultura, altri al sociale, ma il fatto grave, a mio modo di vedere molto grave, è che nei 76 milioni e mezzo che vengono sottratti nel 2021 agli investimenti previsti in Toscana vi sono investimenti sulle infrastrutture, una su tutte la FIPILI, sul trasporto ferroviario regionale. Vengono sottratti soldi, 25 milioni di euro destinati al trasporto ferroviario regionale. I treni regionali toscani viaggiano e si muovono in condizioni di precarietà assoluta tutti i giorni. Ci sono stazioni, basta andare la mattina a fare un giro delle stazioni toscane per vedere pendolari che attendono il passaggio del treno anche 40 minuti. Treni che viaggiano in condizioni di sovraffollamento folle, autobus extraurbani che viaggiano ben al di sopra dell'80% della capienza prevista dalla normativa attuale. E' un settore questo che si può permettere di vedersi sottrare 25 milioni di euro. La variazione di bilancio cade in un momento molto complesso dal punto di vista finanziario per la regione toscana per il grave buco di bilancio legato alla sanità che abbiamo. Ma di fatto non ci si aspettava che questa variazione potesse risolvere problemi così grandi, ma neanche che, come abbiamo visto troppe volte, si riducesse semplicemente a piccoli favori. Potrebbero essere letti così sul territorio, legati a interessi del singolo consigliere, piuttosto che dell'amicizia con qualche sindaco, invece che qualcosa di più ampio. Di fatto vengono sostenute alcune istanze sicuramente condivisibili, ma niente di più. Ci si riduce soltanto a piccoli interventi che mancano di una visione di più ampio respiro, a una programmazione, che di fatto è quello che avviene ogni volta che ci sono delle variazioni al bilancio. La cosa che più ci preoccupa è che ci sono una serie numerosa di rimodulazioni delle spese che ci fanno capire che c'è un problema di capacità, di spesa, di programmazione e di realizzazione di cronoprogrammi in molti progetti. E questo è un problema che interessa gli enti locali e che probabilmente ci dovrebbe interessare in un'ottica di coordinamento tra tutti gli enti locali e il governo, ma soprattutto della capacità della regione di riuscire a fare una cabina di regia su questo. Al termine del dibattito l'Aula ha approvato la variazione a maggioranza con 22 voti favorevoli e 14 contrari.